Mi stai facendo impazzire! Devo fare tutto da sola! Oh! Mamma! Cosa? Vai nella tua stanza! Ancora? Ecco! Adesso vattene! Come hai potuto! Sarà meglio che me ne vada! Addio! Oh! Oh! La troveremo! Ecco gli annunci! Calmati! Guarda! Ecco meglio di niente! Un topo! Spendiamola! No! Stiamo cercando kittenap! Oh! Per favore! Per favore! Ok! Trasformeremo la ragazza in kittenap! Toc toc! Serviti! Non lo mangio! Perché ci vuole così tanto? Muoviti! Solo un secondo! Mi hanno adottato! Cosa? No! Vai via! Sei kittenap? No! Non disturbarci! Buttiamolo via! Vieni con noi! E tu dove stai andando? Vengo con voi! Ma perché? Ti renderemo felice! Pensa a qualcosa! Capito! Oh! Bella la ragazza! No! Questa? Sciocco! Era più sveglio il senza tetto! Non capisci di cosa ha bisogno? Aspetta! State litigando! Niente affatto! O tu! Ops! Non volevo! Andiamo! Sono qui! Mi avete chiamato? Oh! Smettila! Assolutamente no! Prendi questo! Oh! Ne ho abbastanza! Voglio il divorzio! Casa? Quella è mia! È mia! Ok! Questa è mia! Hmm! La tv è mia! Ho un'idea! Puoi vedere? Oh no! Dividiamola! Che stai facendo? La mia metà! Prendi! Ops! Allora nostra figlia resta con me! No! Con me! Dov'è? Oh! La troveremo! È scomparsa! Forse lì? Non è nemmeno qui! Forse si nasconde nell'armadio! Oh! Non è lei! Oh! Forse nei giocattoli! Mutandoni? Trovati! I miei joystick! Mi chiedevo dove fossero finiti! Concentrati nostra figlia scomparsa! Oh! I miei pantaloni! Ti troveremo tesoro! Bene! Ecco la tua nuova casa! La mia casa! Oh! Oh! Che rumore! Tieni! Spruzzati la gola! Chi è? Oh sì! Tada! Una scatola di cartone non va bene per un concorso di bellezza! Che scontrosa! Oh! La trasformeremo in kittenap! Devi farlo prima dell'inizio del concorso! Bene! Il tempo stringe! Ehi! Puoi farlo, vero? Eh? Bene! Da dove cominciamo? E' ora di scappare! E' chiuso! Ah! Ho bisogno di un calmante! Fantastico! Mi hai rovinato il vestito! Orribile! Va bene? Stai andando a una festa! Oh! Calmati! Indosserò questi! Contenta? Troviamo nostra figlia! Dobbiamo fare qualcosa per i tuoi capelli! Tingiamoli di rosa! Wow! Bel colore! Lisciamo con la piastra! Cosa? Maniche! Abbiamo finito lo smalto! Batto il cinque! Cosa fare? Oh! Idea! Riempio un palloncino di fumo! Ancora! Cosa succederà? Sì! Un palloncino! Mira! Wow! Rosa! Super! Oh! Serve un outfit diverso! E i vestiti? Ehi, Dog Day! Cosa fai l'impalato? Devo fare tutto da sola? Ah! Sono caduta! Scusa! Che trucco! Niente di che! Ehi! Prendi un osso! Vado! Cominciamo! Togliamo tutto! Mi tornerai utile! Bene! Cucciamo! Tagliamo! Wow! Fantastico! Il look è pronto! Voilà! Lo adoro! Fantastico! Ora gli occhi! Ok! Ha un profumo fantastico! Oh! La troveremo! Non preoccuparti! Oh! È il suo berretto! Tesoro! Cosa? Oh! Ciao! Bellissimo! Sei cresciuta così tanto! Aspetta un attimo! Ah! Non osare toccarla! Di cosa stai parlando? Aspetta! Dove hai preso questo berretto? Laggiù? Laggiù! Andiamo! Detective? Sono io! Tu! Ciao! Ops! Ma che diavolo! Andiamo! Cosa non funziona? Allora è il momento della fiamma ossidrica! Oh no! Cosa c'è? Ne vuoi un po'? No! Au! Dove stai andando? Voglio andare a casa! Sono pazzi! Guarda! La nostra cara figlia! Hai le pulci! Era un sogno! Tieni! Se non vuoi giocare con loro, vattene! Addio! No! Devo scappare! Stavo scherzando! Non capisco! Ciao! Bentornata! Il tempo stringe! Occhi! Ma cosa vogliono? Noi! Oh! Ok! Wow! Proviamo a truccarci! Trucchiamo gli occhi! Matita sul naso! Perfetto! Come sta? Oh! Cos'è successo? Questo! Un momento! Forse una maschera? Ecco! Più sono, meglio è! Ho una beauty box! Cosa? E ha spento la luce! E guarda! Ah! Cattivo Dog Day! Perché? Poverina! Sì! È tornata la luce! Sistemeremo tutto! Cos'è quella cosa? Usiamolo per un massaggio! Un rullo per favorire l'assorbimento della crema! Un po' di cipria! Finito! Ti piace? Lo adoro! Wow! Oh! Serve un talismano! Ecco! Com'è? Cool! Perfetto! Ma sembra che manchi qualcosa! Le orecchie! Ah! Che soffici! Già fatto? Cosa ne pensate? Avete visto chi ha dato le orecchie alla ragazza? Scrivetelo nei commenti! Facciamo un selfie? Sì! Troom Food! Come va? Il look è pronto! Guarda te stessa! Meravigliosa! Ecco il tuo invito! Evviva! Evviva! L'hanno rapita! È ora di salvare nostra figlia! Cosa? Chi è là? Prendi questo! È nostra figlia! Mamma! Cosa? Ciao tesoro! Adesso è mia figlia! Vedete? Pensaci tu! Possiamo farci un selfie? Ehi! Sei serio? Perché no? Eccola che parte! Primo round! Tappa off! Ho bisogno di rinforzi! Vorreste sostituirla? Bene! Andiamo! Che peccato! Ce la pagheranno! Me ne occuperò io! Vai! Vieni qui! Cosa premere? E' terribile! Non dovreste litigare in questo modo! Cosa c'è che non va in voi? Sì hai ragione! Grazie per avermi trasformata in kitty nap! La nostra gattina! Forse questo? Oh! Vai! Lascia stare! Non piangere! Tieni! Non è quello! Il mio piede! Oh! Così va meglio! Ti abbiamo trovata! Prendi questo giocattolo! Hello Kitty! Questo è meglio! Non sarà kitty nap! Un nuovo look! Ho detto! Cosa? Come può essere? Beh! Dobbiamo andare! Decidi sempre tu! Ho buon gusto! Non è sempre! Non essere triste! Ti stanno aspettando! Lasciamo decidere nostra figlia! Dov'è? Ciao! Wow! E' fantastica! Ti amiamo! La nostra prossima concorrente! Diamo il benvenuto a Dog Day! Che schifo! Assolutamente no! Non essere triste! Cosa ne pensate di catnap? È assolutamente la migliore! Fantastico! E che ne dite di Dog Day? Oh no! La decisione è presa! Catnap è la reginetta di bellezza! Non è giusto! Dalla una lezione, Miss Delight! Gnam! Dammelo! Oh! Guardate! Chi è la perdente adesso? Sei squalificata! Abbiamo una nuova vincitrice! Mi ha ingannato! Non lo dimenticherò mai! Avrei dovuto esserci io al suo posto! Oh no! E ora uno sfogo! Sono tutta brufolosa! Cos'era? Bene, sei finita! Capito? Per favore, perdonami! Ehi, stai attenta! Oh, sei tu! Ciao! Ciao, Aggie! Ecco, prendi! Grazie! Guarda cos'ho! Questo è per te! Grazie, Aggie! Wow, è lei! Oh, sta venendo verso di noi! Ciao a tutti! Vorrei essere come lei! Oh, nessun problema! Taggami più tardi nella foto! Oh, sei la più cool della scuola! Oh, pulisci immediatamente! Non darmi sui nervi! Su! Dove sono i miei compiti? Ben fatto! Dog Day! Cosa vuoi? Vieni ad un appuntamento con me! Cosa? Tieni questo! Ti rispondo! Sparisci! Sciocco! Perché succede sempre così? Corriamo! Buon pomeriggio! Chi risponderà? Guarda questi perdenti! Ehi, smettila! Aggie, ignorali! Ecco il vostro compito! Bene, cosa abbiamo qui? Sarà un gioco da ragazzi! Sì, facciamolo! Non capisco niente! Questo test è in cinese o cosa? Ehi, Aggie! Si è ricordata di me! Mi aiuterai con il test, per favore! Certo, dammi un minuto! Ecco qua! Eccellente! Mai più! Cosa? Sei un mascalzone! Non mi inganni più! Consegnate i vostri fogli! Ben fatto! O anche tu hai fatto un attimo lavoro! Non male! Ma potevi fare meglio! Sei l'ultima! Quindi? Cosa? C'è qualcosa che non va? Non ho mai visto un lavoro del genere! F! Oh, che cattiva! Prendi questo, Dog Day! Il fallimento le si addice! Bene, vi mostrerò chi è il capo qui! Chi ride ora? Gattaccia trasandata! Perdente! Ehi, basta! Decido io! Sorridi! Sarai nel mio TikTok! Ehi, lasciala stare! Fai bene? Ross, sei il mio eroe! Ti aiuto! Sei ferita? Grazie! Oh, cos'è quell'odore? Oh! Oh no! Cosa ho fatto? Beh, l'hai davvero steso! Perdente! Oh, sono così imbarazzata! Oh! Ah! Vuoi una gomma? Oh, Miss Delight! Corriamo! Ehi, perché stai piangendo? Nessuno mi ama! Beh, è facile da risolvere! Davvero? Voglio farlo! Eccellente! Bene! La formazione si svolgerà qui! Accomodati! Non riesco a guardarmi! Questi brufoli mi stanno facendo impazzire! Schiacciare i brufoli è dannoso! Penserò a tutto io! Sei sicura di poterlo fare? Non avere dubbi! Questi non ti serviranno! Non vedo niente! E ora cominciamo con la pulizia del viso! Adesso facciamo un po' di ordine! E gli ultimi ritocchi! Hai finito? Non avere fretta! Abbiamo appena iniziato! Assolutamente no! Traiati! Guarda il pesce! Buonissimo! Così va molto meglio! Alla massima potenza! Penso di aver esagerato un po'! Esci! Wow! Fantastico! Grazie Miss Delight! Fermati! Non è così che si diventa reginetta della scuola! Scegli! Va bene! Mmm! Adoro il rosso! Proviamolo! Bene! Non osare masticarli! Ah! Ci vedi meglio adesso! Sì! Grazie! Sono molto contenta! Bene! Chi vuole venire alla lavagna? Prendi questo! E perché se la prende sempre con me? È semplice! Che riesce a trovare la X in questa equazione? Ah! Che noia! Non riesco a sentirvi! Oh! Guarda cosa ho trovato! Ciao a tutti! Fatemi fare un piccolo esperimento! Che incubo! Abbiamo un supplente oggi! Queste formule non funzionano! Guardate! No, non va bene! Non distrarti! Ci sono altre opzioni! Iniziamo la nostra indimenticabile performance! Dobbiamo cambiarlo urgentemente! Oh! Dove sono? Cosa sono questi numeri? Cosa devo fare? Lei è più divertente! Chi altro c'è qui? Oh! Dove sono? Odio la matematica! Sarà meglio cancellare! Ti adoro! La scuola non è cool! Lo avete capito tutti? È davvero fantastica! Non credo! Oh! Proverò a riportare indietro Miss Delight! Restituiscilo! Oh! Chi è stato? Confessate! Ora! Oppure sarà peggio per voi! Oh! Il mio trofeo! Ti amo! L'orgoglio della scuola! Ops! Ehi! Attenta dove vai! E se avessi colpito il trofeo? Oh! Non essere così timida! Ancora tu? Ciao! Ciao! Oh beh! Ciao! E adesso? Stai andando alla grande! Quali sono i tuoi piani per la serata? Miau! È strana! È divertente! Sei così forte! Vieni da me! Che odore! Allontanati da me! Oh no! Dammelo! Oh! Sei tu! Scusa! Stavo solo scherzando! Davvero? Allora anch'io! Il mio telefono! Non ti perdonerò mai! Miss Delight! Grazie! Non abbiamo finito! È ora di lavare i denti! Oh beh! Uno spazzolino non sarà abbastanza! È imbarazzante! Allora ti cambieremo i denti! Dai! Ehi! Cosa fai? Quella è mia! Non me l'aspettavo! Voglio un sorriso come il suo! Bene! Possiamo farlo! Ti piace? Moltissimo! Ma non è reale! Ok! Penserò a qualcosa! Cosa mi darà la fata? Lo scoprirò domattina! Oh! Ottimo! Presto la mia collana sarà pronta! Non così in fretta! Serve di più a me! Sorriso luminoso garantito! Apri la bocca! Eccellente! Scuotiamo un po' per mettere tutto a posto! Voilà! Ha funzionato! È ora delle sopracciglia! Ah! Che male! La bellezza è dolore! Miau! Però sai una cosa! So benissimo! Qual è il prossimo passo? Oh! Il trucco! Chiudi gli occhi! Quando li aprirai non ti riconoscerai! Wow! Super! Ora passiamo alle ciglia! Provale! Eccellente! E un altro paio! Wow! Ora dobbiamo fare le labbra! Vediamo! Sei semplicemente adorabile! Grazie, Miss Delight! Facciamo l'acconciatura! E pettiniamo! Brava, amicia! Stai ferma! Non sapevo che stavi perdendo il pelo! Basta! Fa male! Oh, forse hai esagerato un po'! Sei semplicemente meravigliosa, Miss Delight! E che dire di quelle mani? Quella la chiami manicure? Sì! È ora di mostrarti cos'è una vera manicure! Inizio ad avere dei dubbi! Ah! E che ne dici della limatura? Non ce n'è bisogno! Ok, allora prendi questo! Oh, un tiragraffi! Lo adoro! Guarda questi artigli! Ora passiamo allo smalto! Semplicemente adorabile! E voi cosa ne pensate? Belle, vero? Miau! Alzati! Quel vestito non va bene! Cosa indossare allora? Sei fortunata! Sono la miglior designer! Troveremo qualcosa per te in pochissimo tempo! Deve essere qui da qualche parte! No! Mi spaventa! Che ne dici di questo? Provalo! Sono Aggy adesso! Cosa mi sta succedendo? Wow! Questo è troppo! L'ho trovato! Oh! Non copiarmi! Wow! Sei semplicemente favolosa! Adesso vincerò sicuramente, vero? Verso la vittoria! Wow! Quanti spettatori! Sembra che io sia al centro dell'attenzione! Devo andare! Cosa ci fai qui? Cosa ci fai tu qui? Non puoi battermi! Non dimenticare di passarmi la corona? Basta! E quest'anno la corona va... Stop! Catnap è la nuova reginetta della scuola! Finalmente! Wow! Puoi firmarlo? Per favore? Facciamo un selfie! Esco con la reginetta della scuola! È impossibile! Aspettavo questo momento da tanto tempo! Grazie! È ora di toglierne quella corona! Oh no! K! Unisciti a noi! Davvero? Che gentile! Questa è per te, Dog Day! Non capisco! Wow! Me la stai dando davvero! Ti adoriamo, Dog Day! Sei la migliore! Allora sei proprio cattiva! È tutto! Non sei necessaria qui! Addio! Come osa! Oh no! Cos'è questo fumo? Cosa faccio adesso? Sta arrivando qualcuno! Evviva! Sarò la reginetta quest'anno! Ehi, perché non c'è nessuno? Che strano! Oh, un giocattolo! Beh, almeno qualcosa di buono! Sono così felice! Che gattino carino! Ma è ora di dormire! Non vedo l'ora che arrivi domani! Sogni d'oro! Oh, che strano! Oh! Perché non risponde? Potrebbe essere successo qualcosa! Mia amata Mary, dove sei? È scomparsa? Devo trovarla urgentemente! Buona giornata! E non inizia con il caffè! Dove sono? Basta avviare la macchina ed è tutto pronto! Inseriamo i dati di trasformazione! Tutto al massimo! Eccola, muleto! Ah ah! Sono un genio! Presto diventerai catnap! Chi è adesso? Non ora! Non lascerò che il mio esperimento venga rovinato! Ehi, c'è qualcuno? Per favore rispondete! Povera Mary! Ops! Scusa, professore! Di cos'hai bisogno, Damon? La mia ragazza è scomparsa! Quindi non sospetta nulla! Dove l'hai vista l'ultima volta? Ieri alla fiera eravamo al poligono di tiro e... Ci divertivamo e poi... Ehi! Cosa? Hanno chiuso definitivamente! Non la troveremo più! Ottimo! Sono quasi libera! Manca solo l'altra mano! Che cos'era? Non spaventarmi così! Sono libera! Fatto! Ed ecco la via d'uscita! È un profumino delizioso! Devo assaggiarlo! Oh no! Sembra che io debba andare al laboratorio! Perché è rimasta ferma! Mi ha anche rubato il panino! Aiuto! Via di qui! Oh scusa signor vagabondo! Oh vuoi litigare? Ti butterò a terra con una mano legata dietro la schiena! Per me va bene! Meglio sbrigarsi! Ridammelo! L'ho visto prima io! Bene bene bene! Lascia andare il panino! Va bene se lo dici tu! Puoi stare più attento! Posso averne un pezzo! Impossibile! Mi occuperò prima di lei! Cosa? Per favore! Troppo tardi! Mi sento come se stessi impazzendo! Cosa mi sta succedendo? Che strane sensazioni! Oh! Wow! Oh sì! Che strano! Mi sento fantastica! È terribile! Non ho fatto alcun progresso nelle mie indagini! Dov'è la mia Mary? Oh! Spero che venga ritrovata presto! Stai piangendo? Ehi Damon! Cos'è successo? Mary è scomparsa! Mi aiuterete a trovarla? Certo! Tu copri quest'aria e io andrò alla mensa! Ci stavo andando anch'io! Chi è Mary? La mia povera fidanzata! E dov'è? Chi è? Deve essere stata la mia immaginazione! Ah! Oh! Cutnap! Sei tornata! Ottima preda! Lasciatemi andare! Siediti! Non fatelo! Sta tranquilla adesso! Ecco un giocattolo per mantenerti calma! Per favore! Lasciatemi andare! Aspetta! Presto non vorrei più andartene! Cosa hai in mente? No! Fermati! Ciao! Hai visto Mary? No! Stavo sognando! Forse hai visto Mary? No! Sono occupato! Oh beh! Signorina Lily, per favore aiutaci a trovare Mary! Certo, ma... Sembra che il mio turno sia finito! Buona fortuna con la ricerca! Devo andare! Oh, arrivederci! E ancora una volta non abbiamo trovato nulla! Cos'è? Ehi! Devo tirare! Perché non siete ai vostri posti? Sembra che siamo nei guai! Allora, cos'è tutto questo casino? Vi siete rilassati troppo? La lezione di oggi è lo sparo! Chi vuole venire per primo? Signorina Lily, ti stanno chiamando! Tutto tranne questo! E tu mi piaci! Scegliete la vostra arma! Chi vuole provare? Tu! Oh no! Non sono un grande tiratore! Sembra che sia meglio scappare! Oh, non volevo! Colpito in pieno! Ops! Mi è scivolato! Perfetto! Grazie! In realtà stiamo cercando la mia ragazza! Scommetto che è stato lui a prenderla! No, è tutta colpa di Kissi Missi! Zitta! Sono io l'insegnante! Qualcuno può aiutarci! Oh, siamo senza speranze! Per favore, aiuto! Abbiamo cercato ovunque! Siete la nostra ultima speranza! Oh, questa è buona! Cosa dirai dopo che Kissi e Aghi l'hanno rapita? Te lo immagini! Non ci aiuterete! Per favore, vi supplichiamo! Aghi sta già venendo a prenderti! È ora di pranzo! Il mio momento preferito! Buon appetito, collega! Un altro piccolo cieco! Come faremo a trovarla? Nessun aiuto dalla polizia! Eh ragazzi, questa cosa vi aiuterà sicuramente! Girate e troverete la vostra amica! Cosa? Non è successo niente! Premete il pulsante! Cosa mi sta succedendo? Ah ah ah! Fatto! Bene, 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 bene! Sono un mostro di peluche! Consegnami il cibo! Ora ti do una lezione! Hai sicurato te stesso! Ti mangio! Oh aiuto! Mai sottovalutare Aghi! Penso che sia ora di andare! Ehi, dove sono? Ah! Hai sentito? Scappiamo! Cattivi! Spero che non ci trovi! Avete deciso di giocare a nascondino con me? Non guardarmi così! Sei stata tu! Beccati! Troviamo qualcosa di più interessante! Oh, questo è perfetto! Diti addio alla vita! Ah! Cosa sta succedendo? Non posso nemmeno riposarmi in pace! Vado a lamentarmi! Maledizione! Non sono loro! Oh, che pussa! Dove potrebbero essere? Facciamoli saltare in aria! La dinamite dovrebbe fare al caso nostro! Oh! Non toccherò la luna! Oh! Nessuno? Sembra che l'abbiamo scampata! Vi troverò! Allora siete qui? Ah! Cosa? Questo no! Ok, va bene allora! Sembra che la situazione sia cambiata! Ora prendi questo! Ti piace? Oh, questa tornerà utile! Presa! Ops! Muoviti, Angie! Oh! Ho paura qui tutta sola! È finita! Non avete nessun posto dove scappare! È ora di rilasciare il fumo! Oh! Ed ecco la mia preda! Semplicemente deliziosa! Ah! Super! Mi piace! Ciao, professore! Piki Piggy! Sei in missione! Prendi questo ragazzo e portamelo! Sì, capo! Sembra che mi sia perso! Cosa fare? Una mela? Da dove arriva? Oh! Oh no! Non questo! Credo che adesso il capo sarà contento! Prendiamolo! L'ho preso io! Non inventare le cose! La rete è mia! Mi faranno a pezzi! Va bene, risolviamo la questione da adulte! Troom Troom Food! Oh! A questo gioco si può giocare in tre! Aspettate! Giocherò con voi! Troom Troom Food! Oh no! Non questo! Ci ha ingannato! Perdenti! L'ho sottovalutato! È ora di potenziarsi! Questo demon me la pagherà! Penso che questo sarà sufficiente! Ancora un po' di colorante ed è pronto! È ora di riportarti in vita! Piena potenza! Ora sicuramente non mi sfuggirai! Vediamo com'è andata! Fatto! Oh sì! Il mio soldato universale! Un piccolo massaggio prima dell'azione! Dov'è il tuo sorriso ragazzino? Ed ecco gli occhi! Prendi vita! Ho una missione per te! Portamelo! Capito! Ti incastrerò! Ti incastrerò! Da dove vieni? Oh mio Dio! Prendi questo! Come mai non funziona? Oh! Proviamo con questo! Il gambetto di re! Geniale! Oh! Scacco! Ed ecco il mio cavallo scuro! Questo è contro le regole! Oh! Cosa mi hai fatto? Aiuto! Aiuto! Non avresti dovuto imbrogliare! Questo è impossibile! Cosa fare? Oh! La mia più grande creazione! Penso che te la caverai con lui! Nessun problema, professore! Uscirò mai di qui! Forse Pikachu può aiutarmi! Beh, ciao! Cut! No! E pensavi che avrebbe funzionato! Wow! Basta giocare! Sono un attimo ricevitore! Lasciami in pace! No! Basta! Verrai con me! Prendi questo! Non in faccia! Ferma! Ehi! Mary! Sei tu? Sono Cutnap! Il professore sarà contento! Perché non ti arrendi? Non così in fretta! Ricordi i vecchi tempi! Cascale! Cosa? Come hai fatto? Mi hai già dimenticato! È ora di liberare il fumo! Ha ha ha! Splendido! Grazie, prof! Ehi! Non tremare! Cosa? Demon? Come potrei dimenticarti? Quelli sono stati i momenti più felici della mia vita! Stavamo così bene insieme! Questo è meglio dimenticarlo! Tesoro! Ti salverò! Ma prima... Professore! Fermo! Impossibile! Questa era la mia paura! Ora nessuno può fermarmi! Prenditi una pausa, Cutnap! Lasciatemi andare! Di addio! Di addio! Adesso Damon diventerà il mio giocattolo! No! Sì! Abbracci! Diventiamo amici? Non l'ho fatto in tempo! Amici per sempre! Tutto è andato meglio del previsto! La mia squadra è al completo! Con il loro aiuto potrà conquistare il mondo! I loro amuleti possiedono un potere distruttivo! Nessuno sospetterà di creature così carine! Questo è un piano geniale! Il mondo intero si inchinerà davanti al mio potere! Ragazzi, non possiamo permettere che ciò accada! Scappiamo! Tutti ricorderanno il nome del professore! Maledizione! Pensate che non vi troverò! Avvio del piano B! Ho bisogno di nuovi guerrieri! Hai capito tutto? Sì, maestro! Allora vai! Ed eccomi qua! Faresti meglio scappare di qui! Beh, ciao! È passato Aggie? Cos'è questo? Hmm, vediamo! Probabilmente è stato lui a farla cadere! Non so da dove venga! Spero che non se ne accorga! Sono solo cuscini e è corso da quella parte! Grazie, per ora puoi tenerla! Ehi, grazie per avermi coperto! È davvero arrabbiata! Dobbiamo rimandarla nel gioco e velocemente! Per prima cosa dobbiamo trovare la bambola Poppy, il treno e il castello colorato! Dammi la cassetta! Vediamo cosa c'è su! Oh, è la pubblicità del bar di Poppy! Ciao a tutti! Poppy vi invita a provare tutti i tipi di dolci! Affrettatevi e venite a trovarci! Ora è chiaro dove trovare Poppy! Andiamo! Direttamente al bar! La troveremo lì! E il gioco può caricarsi mentre siamo via! I ragazzi sono già al bar! Ed ecco il loro obiettivo! Solo un minuto! Non abbiate fretta! Siete a metà strada! Ma prima dovete superare una sfida alimentare! Ora Aki mangerà il poveretto! No, no! Ti offro di giocare alla ruota della fortuna! Rosie dovrà mangiare quello che uscirà sulla ruota! Wow! Un Kinder Pinguì! Wow! È enorme! Il tempo scorre! Vai, Rosie! Puoi farcela! Che fantastico gruppo di supporto! Manca poco! Continua così, Rose! Stai andando alla grande! Hai quasi finito il Kinder Pinguì! Perfetto! Ce l'hai fatta! Prendi la bambola e la seconda videocassetta! Ottimo lavoro! Oh, ciao! Benvenuta nella nostra caffetteria! Ti offro di fare una sfida alimentare! È molto eccitante! Ops! La regola principale di Mammy è l'assenza di regole! Rosie e Aghi sono pronti per continuare! Ecco cosa sta succedendo! L'insegnante pazzo ha fatto una ferrovia! Aha! Eccolo! Ehi! Io ero tipo... Cosa vuoi? Ehi! Cerchiamo il treno! Andiamo! Bene! Dovrebbe essere qui da qualche parte! Eccolo! Dobbiamo prenderlo! Shhh! State attenti ragazzi! Ehi! Cosa state facendo? Vi serve forse il mio trenino? L'insegnante ha sempre ragione! Per ottenerlo dovrete superare un test! Risolvete tutto e il treno sarà vostro! Forza! Credo in voi! È un test molto difficile! Ma gli amici non hanno intenzione di arrendersi! Sembra che Aghi voglia copiare da Rosie! Eh no! Non è giusto! Ciascuno per sé! Rosie ha risolto tutto da sola! E anche Aghi! Hai fatto tutto? Sì! Controllalo! Grande! Il punteggio più alto! E il mostro di peluche? Che attimi di tensione! Wow! Anche lui ha preso un bel voto! Ma con il meno! Avete superato il test! E ora il treno è vostro! Avete fatto un ottimo lavoro! Ho una videocassetta per voi! Ah! Corri! È lei! Buona fortuna, ragazzi! Oh! Mammy Long Legs è già qui! Ciao! Non avere fretta! Per poter proseguire, devi prima superare un test! È facile! Che colpo di scena! Un insegnante bocciato! È inaccettabile! Nuova cassetta! Nuove informazioni! Bene! Vediamo! Aha! Ecco cosa sta succedendo! Il professore ha nascosto la serratura a codici all'interno del libro! Che intelligenza! Ho capito! Smettila di giocare! Dobbiamo andare! Aggie e Rosy sono arrivati in biblioteca! Shhh! Aha! Stanno cercando il libro! Giusto! È qui da qualche parte! Non sarà facile! I ragazzi cercano, ma non trovano nulla! Dove sarà? Oh! Aggie non ha fretta! Sei fuori di testa! Volta le pagine più velocemente! Shhh! Ok! I cercatori staranno zitti! Beh, forse è questo! Bingo! Hanno trovato la serratura a codice! Ma è arrivata Mammi! È l'inseguimento del secolo! Silenzio! Smettetela! Finalmente ti ho trovato! Vieni dalla mamma! Bel servizio! Ora basta! Mi hai stufato! Fuori di qui! Gli amici hanno preso la serratura a codice! È un po' rotta! Oh no! Cosa facciamo? È falsa! Cielo! Che fallimento! Wow! Ora è tutto a posto! Grande! Ci sono tutti gli elementi! Ottimo lavoro! Cosa stanno combinando? Rosy e Huggy hanno preparato una trappola per Mammi! Chissà se funzionerà! Ehi! È qui! È ora di andare! Strano! Perché i ragazzi hanno mostrato il loro nascondiglio! Presto tutto sarà chiaro! Wow! Cos'è quella barriera invisibile? Mammi è rimasta intrappolata e non può muoversi! Ancora un minuto e l'arrabbiata Mammi tornerà nel gioco! Il piano è fallito! Oh no! Oh no! Aghie nei guai! Rosy è arrivata in tempo! Incredibile! È tornata nel mondo di Poppy Playtime! Ma sembra che voglia uscire di nuovo! Wow! Aghi è diventato un vero ragazzo! L'incantesimo del gioco è stato spezzato! Ciao! Grazie a tutti.